Salve, io sono Pio e bentornati nella Warden Jar. Nello scorso episodio abbiamo esplorato questa bottiglia bruttissima di pietra, dove dentro abbiamo trovato anche abbastanza ore, alla fine la cosa che ci interessava di più è il ferro e in realtà anche la redstone che comunque ci servirà per l'appunto per fare delle farm automatiche, visto che la farm di carote non sta andando proprio benissimo. E poi abbiamo trovato anche sei diamanti che comunque non dispiacciono mai. Comunque come vi avevo detto avevo già fatto dei ponti off camera per andare all'outpost, si chiama se non sbaglio dei villager, dei pillager, degli illager e alle bottiglie con la nieva. Ovvio ho fatto solo il ponte che porta la prima bottiglia, poi andremo da bottiglia in bottiglia, tanto sono comunque vicine, però prima di tutto andremo ad esplorare quella bottiglia lì con l'outpost, perché sono molto curioso. Ovviamente ho la spada e anche l'armatura di ferro, ho anche il piccolo in realtà che avrei dovuto lasciare a casa, ma va bene, spero non mi uccidano perché non ho intenzione di perderlo. E adesso andremo qui a cazzo non duro, ma proprio a cazzo durissimo, a far vedere chi comanda, perché sicuramente ci saranno gli stronzi, infatti già ce ne sono qui sotto. Certo, forse sarebbe stato il caso di portarsi lo scudo, o meglio di craftare lo scudo e usarlo, però non ci ho pensato, quindi va bene così. E lì non va bene, c'è uno spawner di scheletri, non va per niente bene, o meglio uno spawner di scheletri ok, perché ci facciamo la farm di bom mille, oltre che di esperienza. Però, no, non l'avevo visto. Facciamo così. Ah, coglione. Vieni qua. Vieni qua. Quella. Eh, eh. Ma, eh, eh. No, non mi uccidete la pegola, bastardi. Guarda, guarda che si attaccano tra di loro. Eh, non mi uccidete la pegola, mi incazzo, eh. Ma vedi tu che rincoglionite. Ma guarda, si ammazzano tra di loro. Scusa, attacca. Eh, fanno tutti da voi. Fanno tutti da soli. Ok, va bene così. Certo, quell'endermain di dietro non mi ispira. Ma quanti cazzo sono? Ma c'è lo spawner di questi stronzi. Eh, non si spiega perché sono così tanti, sennò. Ma comunque se vi... Ma quanti? Ma non è lo spawner di scheletri, è lo spawner di stile incoglionite. Ma guarda, un esercito. Non riesco a vedere di chi cazzo è lo spawner. Ah, eccolo. Sono due spawner, neanche uno. Ma vaffanculo. Eh, mi sa che mi tocca entrare dall'alto e... bloccare gli spawner. E lì fra l'altro c'è una bottiglia che non avevo notato. E anche lì. Ma che bello. E anche quello. Oh cazzo, quante cose. Guarda quanti. Cioè, ma ci fai le mega farm? Non capisco però se sono uno di scheletra e uno di sti stronzi. Oppure tutte e due di sti stronzi. Vabbè, andiamo a prendere un po' di pietra e cerchiamo di arrivare... direttamente lì per bloccare gli spawner. Oh, ma ciao. Eh, non va bene così però. Cadete, grazie. Cadete, dai. Giù, per favore, dai. Bravi, ecco, lanciatevi. No, no. Non andiamo d'accordo così. Ma per niente proprio. Vai, tutti giù. Dai. Dai, da bravi. Giù. Vai, cadete. Beh, bravissimo. Ecco, però pure da sotto. Che cazzo. E basta. E pure lo zombie. E quanti sono. Oh cazzo. E adesso hanno anche il ponte per arrivare qua. Non è buono. Eh, mi sono inculato da solo. Oh, basta. Quanti. Ma io vorrei passare. Ma che cazzo. Pure il creeper. Ma perché? Ma tutti a me. Ma che cazzo. Ma basta. Ma non può essere... Che ci sono creeper ovunque. Ma che cazzo ne ha colpito poi. Da me io ci credo, eh. È impressionante. Creeper ovunque. Vaffanculo. Cadi. Stronzo. No. Eh, volevi. Coglione. Vaffanculo. Oh, porco il cazzo. Oh, porco cane. Un infarto. Ma li continuano a sponare. Se sbattono il cazzo del fatto che ci sono 27.000 frecce. Chissà che mi conviene andarmene e aspettare che ti spawnino questi stronzi. Perché non credo che riuscirò mai ad ammazzarli. E muori. Vaffanculo. Oh, cazzo. Me lo sarei dovuto aspettare comunque. Me lo sarei dovuto aspettare. Sono un coglione. Siamo tornati più forti di prima. Cioè, in realtà, col cazzo. Non ho l'armatura, visto che l'ho persa lì. Ho fatto solo la spada, un piccone. Ho preso un po' di coble. Sono fatto le torce. Ho preso quattro carote che a sto giro sono della nostra farba. E non le ho dovute rubare al villaggio come prima. Io ti ho visto. Io ti ho visto. Ti prego, non esplodere. No. No. E basta. Ma che ca... Ma ma come? Sono fortissimi sti cosi. E ti tirano certe stecche incredibili. Ma fa culo, dormiamo e torniamo lì a prenderci la roba se riusciamo. Dov'è il letto? Eccolo. Cazzo, vi giuro, sto registrando da 30 minuti. Avrò fatto sia no due minuti di video. Sono più le volte che sono morto che le cose che abbiamo fatto in sto video. Che cazzo. Ogni volta mi devo fare chilometri di strada per tornare. Mi sa che mi metto un letto qua, faccio prima. Dall'altro, a sto giro, non siamo tornati qui a cazzo duro, né tantomeno a cazzo durissimo. Ma siamo tornati proprio senza un cazzo. Perché non mi andava neanche di rifarle le cose. Comunque, si trovano qua sopra dove riuscire a prenderle. Spero. Ti riesco a recuperare? Ok, almeno questo rimettiamocelo. Magari le torce. Non mi dispiacerebbero. Datemi delle torce. Eccole. Mettiamo le torce qua. Mettiamo il piccone. Perché voglio provare a rompere il socoso. Non rompete il cazzo. Vaffanculo. Stronzi. Guarda come ti distruggono. Porco. A chi so io, porco. Impressionanti, eh. Guarda. Ci hanno un danno incredibile. E devo tornare di nuovo là. Ho di volta 47 ore. Sti pillager di merda. Che comunque sì, grazie ai chat che ci hai detto che si chiamano pillager. Grazie. Perché non mi ricordavo. E non l'ho neanche cercato. Quindi adesso sappiamo che si chiamano pillager. Si stronzi. Stronzi di merda. Andatevene a fanculo. Pillager di merda. Va a fanculo. Io aspetto che ti esponate. E col cazzo che ci ritorno finché non ti esponate. Si stronzi. Ormai la mia armatura è ancora là. Ciao. Ciao, bella armatura. Quindi ti posso recuperare. Se tipo faccio uno scatto fellino incredibile. Certo, se lui si avvicinasse magari sarebbe meglio. Però non fare il tiro a bersaglio. Avvicinate. Bravi. Colpitevi fra di voi. Testa di cazzo. Ma che cazzo? Che mila ciardo sti cosi? È credibile. Dai che vorrei recuperare la mia armatura prima che ti spawne. Mi sa che ti sponate. Ok, sì. Direi che è decisamente ti sponate. Vaffanculo. Vediamo se riusciamo ad entrare. Vediamo cosa c'è qua. C'è una balestra. E c'è un libro con multishot. Non ho idea di cosa sia. Ma per niente proprio. Di queste cose non le so. Sicuramente è un incantesimo della balestra. Credo. C'è l'unica cosa che mi viene da... Tu sei ancora qua. Fra, fatti una vita. Mannaggia la miseria. Mannaggia. Senti. Vaffanculo. Tanto ho messo qualche torcia. Gli spawner dovrei averli levati tutti. Spero. Perché quello l'ho levato. Quello anche. Lì sotto anche. Non dovrebbe spawnare più nessuno. Le cose le prendiamo dopo. E ce le andiamo nella bottiglia del ghiaccio. Vaffanculo. C'è un barile. C'è un barile e ci sono delle mele. Ottimo. Mele dai. Mele dai tutte. Ho bisogno di cibo. Qui comunque per il resto non c'è un cazzo. Almeno non sembrerebbe. C'è tipo... Un piccolo laghetto ma... Un piccolo laghetto ma... Non so se c'è qualcosa sotto. Oddio. Conoscendo... Conoscendo fra parentesi. Considerando come si comporta il creatore della mappa probabilmente qui sotto c'è la spugna. Almeno credo. C'è qualcosa ci sarà in sta mappa. No? Voglio dire. C'è in sta mappa. In sta bottiglia. Non c'è un cazzo. Non ci sono neanche gli orsi polari. Che mi sa sta in un'altra bottiglia. Mi era sembrato ci fossero qui ma... A quanto pare no. Ma mi sa che qua mi do... Tornare con una pala perché... Se no... Ci metto tre anni a scavare. Sì. Sì. Direi che ci torno con una pala. Lasciamo il buco così ci ricordiamo che l'abbiamo visto. E... Qui sinceramente non credo ci sia la spugna. Altrimenti si sarebbe vista. E... Potrebbe essere qui sotto. Diamo un'occhiata rapidissima così ma... Ne dubito. No. Infatti... Non c'è. Eh. 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 Ma che... L'ho rotto completamente a caso il blocco di ghiaccio. Stavo rompendo la neve. L'ho rotto a caso. Ok. L'abbiamo trovata. È stato più facile del previsto anche sto giro. Saliamo qui nel tappo giusto per vedere se... C'è qualcosa. Ma a sto punto non credo. Visto che la spugna era comunque qua. Però considerando che sta bottiglia non c'è essenzialmente niente. Ecco non usiamo magari il piccone per rompere il legno. Diciamo considerando che comunque sta bottiglia non c'è comunque niente. Magari ci potrebbe essere qualcosa. E invece no. Manco per il cazzo. Comunque andiamo nell'altra bottiglia. Tanto un po' di cobblestone ce l'abbiamo. Qui avevo fatto già una scaletta. Direi che a sto punto usiamo direttamente la scaletta. E ci ricongiungiamo all'altra bottiglia senza uscire da questa per poi andare direttamente all'altra. Ok voi siete buoni vero? Spero. Mi fate del male? No eh? Ok. Ah ma è un igu questo. Oh cazzo e qui c'è del blue ice. Vabbè prendiamo tutto. Anche se non è che ci serva qualcosa in particolare però. Qui entriamo c'è un letto. Non posso dormire? Ok. Prendiamo il pane. Il pene. Il pene che ci serve sempre. Mai ricordatevi uscire senza pene. Posso dormire? È notte. Com'è che ci sono mostri vicini? Chi cazzo c'è? Dove li vedi i mostri vicini Minecraft? Non c'è nessuno in sta bottiglia. A meno che sti orsi non siano dei mob travestiti da orsi. Non c'è nessuno. Dove li vedi? Mi fai dormire? Ma come? Ah ci sono dei vostri nelle vicinanze. Ma dove cazzo mi stai vedendo? Vabbè rompiamo questi tappetini. Tanto volete vedere che c'è? Lo sapevo io. Stavo dicendo volete vedere che c'è qualcosa qui sotto? Allora abbiamo la brewing stand con una pozione già dentro. Splaced potion of weakness. La lascio qui perché non so a cosa serva. Qui c'è un villager zombie e qui c'è un villager normale. Con il quale non possiamo neanche interagire a quanto pare. E poi non sembra esserci nient'altro. E che devo fare? Devo prendere la splash potion of weakness? A che serve? Cioè se ti vuole lancio su di lui diventa... Che cazzo fai? Come ti permetti? Tiè. Prenditi la cosa. Adesso che fai? Diventi tipo lui? Ritorni normale? Ti prego dimmi che non l'ho sprecata. Io mi sono fidato del cartello. Ti prego. Che ti devo dare? La mela? Tiè? Buona mela? Mangiati la mela. Funziona? Ne vuoi un'altra? No? Me ne vado? Che fai? Esplodi? Fai qualcosa per favore. Non farmi pentire di quello che ho fatto. Ti prego. Mi ricordo che si dava una mela d'oro ai tizi per farli tornare normali. Però inizia a venirmi il dubbio. Ci sta mettendo un po' troppo. Cioè sta vibrando come se avesse il Parkinson. Sto rincoglionito. Però non si trasforma. Cazzo io non... Davvero non voglio aver fatto la puttanata. Di aver sprecato una mela d'oro. Una mela d'oro fra l'altro. E la pozione. L'unica che c'era. Oh cazzo! Oh cazzo fra! Si è ritrasformato lo stronzo. E ma... Non mi serve a niente a sto punto. E... E io ti ho ritrasformato. Ma comunque non posso interagire. E quindi? E a chi mi serve? A niente. E che abbiamo concluso? L'ho fatto così per bontà divina. Io pensavo mi facessi tipo... Degli sconti. So che quando trasformo uno zombie villager in villager... Teoricamente ti vende le cose e ti fa gli sconti. E tu no. Tu sei stronzo. Non mi dai un cazzo. E vaffanculo. Io ti lascio qua. A sto punto io però voglio la spugna. Almeno. Solo che la devo trovare. Dove cazzo sarà? Perché qui non c'è di sicuro. Madonna. Ma sono troppo bravo. Sono bravissimo. Ho iniziato a scavare qua perché ho visto il laghetto. Poi ho detto. Aspetta. Ma qui c'è un blocco di ghiaccio enorme. Può vedere che sta qua al centro. Infatti... E infatti... E' prevedibilissimo comunque il creatore della mappa. Troppo prevedibile. Questo l'ho già visto sì. Era troppo scontato che possiede... Adesso. Quella l'abbiamo vista. Questa anche. E' rimasta questa qui. A sto punto andiamoci direttamente da qua. Fra l'altro lì vede un altro bel barrel. E' anche un creeper di merda. E' uno zombie. Due zombie. Tre zombie. Perché stanno sott'acqua? Non dirmi che c'è tipo una stanza segreta sott'acqua. Cioè segreta un paio di palle. Si vede proprio alla luce del sole. Non esplodere. E allora sei stronzo. E allora sei un figlio di puttana. Vabbè. Non dovrebbe aver fatto danno. Pensavo fosse una stanza segreta. Non pensavo fossero così. Vabbè. Voi uccidetevi tra di voi. Per carità. A me non dispiace. Moss block? Cioè. Muschio? E' quello che si trova nel. Lash cave o sbaglio? No che non sbaglio. Cioè quello là. Tipo se lo piantiamo. Gli facciamo il bombillo sopra. Tipo espande il muschio ovunque. Se non ricordo male. Ecco. Voi state facendo i gargarismi. Mi state dando fastidio. Se vi posso ammazzare. A me non dispiace. Ecco. Allora i tizi li abbiamo uccisi. Ora vediamo se. Eh cazzo. Vediamo se qui dentro. Come immagino. Se il creatore della mappa. E' sempre super prevedibile. C'è la spugna. Ci dovrà essere qualcos'altro. Come lì c'era l'igloo con la stanza sotto. Ci sarà qualcosa anche qui. Spero. Comunque sto ghiaccio. Madonna. Quanto sono forte. Lo sapevo. Stavo dicendo. Comunque sto ghiaccio. Probabilmente ci servirà qualcosa. Prima o poi. E io magari lo sto distruggendo. Così completamente a cazzo. Però vabbè. Ce ne faremo una ragione. Dato il graccio. Il graccio. Esatto. Il graccio. Il ghiaccio si può ricreare. Sì. Credo. Ah porco il cazzo. E basta. E dai che ce la faccio. No eh. Oh è difficilissimo no. Per il vetro. Mentre stai galleggiando. Che cazzo. E serve una bravura incredibile. Ah. E che cazzo. Ok. Oltre a quella bottiglia. Dove sembra esserci una maggiore. C'è una cazzo di maggiore. Io sbaglio. Oh cazzo. Come cazzo si faceva il fov. Ah. Non vi ricordo. Fov. No. Non era qui. Era qui. Era così. Quella è una maggiore. Una mini maggiore. Non una maggiore. Ma è una maggiore. Oh cazzo. Oh. Cazzo. Ok. Ok. E niente signori. Abbiamo recuperato un po' di roba. Non tantissimo. Qualcosina l'abbiamo recuperata. Anche se abbiamo perso. Praticamente tutta l'armatura. Però abbiamo preso tre spugne. Considerando che abbiamo esplorato. Quattro bottiglie. Di cui quella non l'abbiamo. Neanche proprio finita. Se dobbiamo dirla tutta. Perché ho lasciato la cesta. E ho lasciato la roba che c'è sotto. Si vedono anche degli or. Però ci sono gli stronzi. Quando può desponere. Non ci andiamo. Tanto ormai gli spawnerli abbiamo rotti. Comunque direi che abbiamo fatto abbastanza. Ho registrato abbastanza. Qualcosa l'abbiamo vista. Abbiamo fatto cose. Quindi per questo episodio. Direi che va bene così. Se il video vi è piaciuto. Mettete like. Se non vi è piaciuto. Mettete dislike. Mettete il solito commento. Per spiegarmi cosa non vi è piaciuto. Se vi sono simpatico. Iscrivetevi. E se volete attivate la campanella. Che come al solito a me non dispiace. Per questo video è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao.